LG svela il nuovo V20, primo smartphone con Android 7, detto anche Nougat. La casa sudcoreana cerca di cogliere il momento e risollevarsi dopo una serie di trimestre negativi e delusioni di vendite, a partire da recente G5 nettamente al di sotto delle attese. Il mercato dei cellulari è saturo, ormai si mira a rimpiazzare quali esistenti più che a conquistare nuovi clienti, ma LG spera di allargare la propria quota. Come sapete stiamo attraversando molte difficoltà e quindi spero che il V20 rappresenti la svolta. Stiamo lavorando perché sia così, dice il numero uno della divisione Telefonia Mobile di LG. Processore quad-core Snapdragon 820, 4 GB di RAM, 64 di memoria integrata, batteria rimovibile da 3200 mAh, display quad HD, ma anche un piccolo secondo display per le notifiche. Il nuovo modello sembra puntare tutto sulle specifiche.